Buonasera, buonasera da onda di Gino apertura subito l'emergenza covid con gli ultimi aggiornamenti il focolaio che si accende nella comunità psichiatrica di Anversa degli Abruzzi, sette positivi tra gli ospiti, oggi sono dieci nuovi casi di covid-19 sul centro Abruzzo, ancora pazienti in sosta nell'area triage dell'ospedale ma un punto vendita che opera sul territorio è osservato speciale, facciamo il punto nel nostro servizio. Dieci nuovi casi di covid-19 di cui uno in corso di verifica per il domicilio, quattro pazienti in attesa nell'area triage dell'ospedale, un nuovo focolaio che si accende nella comunità psichiatrica di Anversa degli Abruzzi e questo è il bilancio del coronavirus per la giornata di oggi 12 gennaio. La novità dell'ultimo minuto riguarda proprio la comunità Il Castello ubicata nel piccolo centro della Valle del Sagittario che ha fatto registrare altri sette casi di positività, tutti riferiti agli ospiti della struttura. I contagi sono stati scoperti grazie alle misure precauzionali poste in essere nel corso del periodo natalizio ovvero lo svolgimento dei tamponi molecolari all'inizio e alla fine delle festività. Nella nuova tornata dei test processati nel laboratorio di Avezzano sono quindi emerse le positività che denotano un quadro più serio del focolaio divampato da tenere indubbiamente sotto controllo anche se tutte le procedure sono state poste in essere all'interno della comunità. La buona notizia riguarda l'operatore contagiato che risulta negativo al tampone di verifica. Si spera quindi in un contenimento del contagio da covid-19. Il virus continua a fare breccia nei luoghi sensibili del territorio il che significa che non sono ammesse distrazioni di sorta. Dal tracciamento ASL sono stati accertati tre casi di positività in un punto vendita che opera sul territorio. L'azienda sanitaria sta vagliando le opportune misure. Il bollettino quotidiano senza contare i casi di anversa che devono ancora essere inseriti nel portale conta 10 casi accertati di cui 7 a Sulmona, uno in corso di verifica, tre a intro d'acqua riconducibili a un nucleo familiare. Salgono a 731 gli attuali positivi in centro abruzzo di cui 304 domiciliati a Sulmona. Numeri ancora importanti per una regione gialla che non può allentare l'attenzione in una fase dell'anno dove si avverte una certa stanchezza nel rispetto delle misure anti covid. D'altronde la richiesta di cura di quattro pazienti covid che stazionano nell'area triage in ospedale e di un'intera famiglia che prudenzialmente ha chiesto la diagnosi dei sanitari deve spingere a osservare pedisseguamente le buone pratiche della prevenzione quotidiana. In ospedale intanto torna in funzione l'attack per i covid ovvero il macchinario ubicato nella lavecchia del nosocomio per ripristinare il rispetto dei percorsi. La buona notizia riguarda l'alta adesione per i vaccini tra le strutture sanitarie. Oggi la prima dose è stata inoculata a 90 operatori tra ospedale e case di riposo. La prossima settimana si passerà ai pazienti delle strutture. Intanto la cassa di riposo di Palazzo Mazzara è una delle prime ad aver vaccinato contro il covid tutti gli ospiti e gli operatori. Quindi un'altra buona notizia, una luce in fondo al tunnel della pandemia anche se si sa vedete che poi il virus continua a fare breccia nei luoghi sensibili. Intanto in tempo di pandemia la diagnostica come sapete è andata in tilt in ospedale e arriva l'esposto alla ASL dal Tribunale della Sanità in nostro servizio. La notizia è quella battuta da undo a tg lo scorso 6 gennaio ovvero l'impossibilità di effettuare raggio all'ospedale di Sulmona in piena pandemia dopo la rottura di due macchinari. Un problema che non è ancora rientrato continua a creare disagio all'utenza tant'è che il Tribunale della Sanità ha scritto alla ASL per chiedere una rapida risoluzione del disservizio. Tali apparecchi infatti sono indispensabili per effettuare le radiografie per i cittadini che prenotano questo tipo di esame, per la diagnostica per i pazienti ricoverati nei reparti, per la gestione dell'emergenza urgenza nell'ambito del pronto soccorso, rileva Katia Puglielli dal suo Tribunale della Sanità, spiegando che nonostante venga riferito che la ASL sia stata posta a conoscenza di tale problema, nessuna disposizione sarà adottata per stabilire come garantire servizio. In un periodo emergenziale come questo, caratterizzato dalla necessità di una tempestiva diagnostica, ho sollecitato la ASL ad adottare tutte le misure necessarie tempestivamente, conclude Puglielli. Abruzzo ancora in zona gialla come sapete, attesa per il nuovo decreto che sarà varato dal Governo centrale, intanto la Compese Arcenti chiede di riaprire i ristoranti a cena, una voce fuori dal coro. Dobbiamo fare in modo che si torni alla normalità delle aperture se abbiamo a cuore il destino economico delle imprese del commercio. Le limitazioni orarie per bar e ristoranti sono una zavorra per chi delle 18 in poi può ricorrere solo all'asporto alle consegne a domicilio. Una scelta questa che non può essere una soluzione. Ad affermarlo è Angelo Pellegrino della Confesercenti del centro Abruzzo che chiede al Governo di consentire l'apertura serale, ovvero di far lavorare gli operatori del comparto ristorazione e somministrazione anche a cena. Una voce fuori dal coro, quella dell'associazione di categoria che pure va presa in carico visto il difficile momento. Basta con le chiusure e le condizioni orarie, aggiunge Pietro Leonardozzi della Confesercenti. D'ora in avanti puntiamo a riaprire regolarmente investendo sui controlli per garantire il rispetto del distanziamento sociale. Secondo l'associazione da parte dell'attività c'è il massimo impegno per rispettare e far rispettare le regole di distanziamento, di uso delle mascherine perché si vuole lavorare in sicurezza rispettando le regole perché dal comportamento di ognuno dipende il risultato di mantenere numeri sotto controllo. Ovviamente si chiedono più controlli per verificare il rispetto delle norme. Non sembra andare su questa direzione il governo pronto ad emanare un nuovo DPCM, rivedere i parametri per la classificazione del paese in fasce e colori. Andiamo alla cronaca, non ci fu estorsione e violenza all'anziano padre assolto un pregiudicato sul monese, ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. Era finito sotto processo con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia, distorsione di denaro. Tutti episodi contestati dall'inizio del maggio 2019 al febbraio 2020, ma per un cinquantenne di Sulmona MV, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è arrivata questa mattina l'assoluzione con formula piena da parte del collegio giudicante e del tribunale di Sulmona, preseruto la neopresidente del Palazzo di Giustizia Pierlu Filippo Mazzagreco. Per i giudici il fatto non sussiste, ma andiamo con ordine. Stando al castello accusatorio l'uomo avrebbe sottoposto a maltrattamenti l'anziano padre, non tenendo conto dell'età avanzata, delle precarie condizioni fisiche, tormentandolo con continui litigi, rifiutandosi di reperire un'autonoma sistemazione, minacciandolo di far saltare la casa con il gas, percuotendolo fino a farlo cadere a terra e costringendolo di notte a chiudersi a chiave nella sua camera per paura di ulteriori violenze, essendo stato minacciato di morte con un coltello. Ma non è tutto. Sempre secondo l'accusa il cinquantenne avrebbe costretto il padre a fornirli denaro per una somma complessiva di circa 10.000 euro e a farli da garante per un prestito da 1.000 euro a tasso di interesse usuraio, minacciandolo di morte sottoponendolo a maltrattamenti fisici. Alla fine è passata la linea dell'avvocato difensore Andrea Marino, secondo il quale non si sarebbe trattato di assorzione ma di un mero sostentamento per il vivere quotidiano. Anche l'accusa di maltrattamenti è caduta perché, secondo la difesa e come confermato dallo stesso anziano nel corso del processo, la lite tra i due sarebbe riconducibile a un unico episodio. Sono pienamente soddisfatto, anche se va rilevato che il mio assistito ha dovuto subire mesi e mesi di carcere ingiustamente, quasi un anno di misura cautelare, per poi uscire assolto, commenta illegale Andrea Marino. Per il tribunale il fatto non sussiste. Almeno riguardo il procedimento per maltrattamenti e lesioni, l'imputato in lacrime si è presentato questa mattina. Oggi il cinquantenne, tra l'altro, è dovuto comparire davanti al collegio anche per la rapina alla parafarmacia di Viale Mazzini come imputato del processo assieme a un giovane pregiudicato sul Monese e starà celebrata la prima udienza ma il processo è solo alle battute iniziali. Ancora cronaca giudiziaria, ruba candelabri in cattedrale li restituisce ma arriva la condanna dal tribunale per una cinquantaduenne di Sulmona. Sentiamo tutto. Aveva restituito i carabinieri in mal tolto dopo aver perpetrato il furto in chiesa. Un'attenuante che le è stata riconosciuta ieri nel corso del processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Sulmona ma non le è servita per evitare una condanna. Protagonista della vicenda è MS, 52enne di Sulmona, condannata alla pena di sei mesi di reclusione e 200 euro di ammenda per aver asportato dei candelabri dalla Basilica Cattedrale di San Panfilo. Erano le 12.15 del 13 marzo 2018 quando la donna, dopo essere entrata all'interno del Duomo Sulmonese, approfittando dell'assenza del parroco e dei fedeli, ha asportato tre candelabri in lega d'ottone posti sull'altare, il tutto ripreso dall'impianto di videosorveglianza presente. I candelabri rubati sono stati rinvenuti dai carabinieri all'interno del fondaco della donna e restituiti al parroco della cattedrale Don Domenico Villani. I militari si erano recati a casa della donna il giorno stesso dopo averla riconosciuta dalle immagini delle telecamere installate nell'edificio di culto. La 52enne confessò quindi di averli presi e di conservarli in casa, per questo i carabinieri hanno restituito la refurtiva a legittimo proprietario, ovvero al parroco come custode della chiesa. I candelabri, va ricordato per onestà intellettuale, non avevano alcun valore commerciale. Ieri, al termine del processo per furto, alla sulmonese difesa dall'avvocato Alessandro Scelli è stata riconosciuta l'attenuante di aver restituito il maltolto, equivalente all'aggravante contestata, e comunque arrivata la condanna a sei mesi di reclusione e a 600 euro di multa. D'altronde si sa, dura l'ex, sed l'ex. La legge dura, ma è legge. Non poteva cavarsela con un padre nostro, anche se, si spera, la vicenda le servirà di lezione. Termina qui la prima parte di Onda Leggi, ma ovviamente torniamo tra poco con le nostre notizie. Se cerchi un'azienda competente per sanificazione e disinfezione, allora cerchi l'impresa di pulizie Total Service. Sanifichiamo industrie, abitazioni, negozi e uffici con un metodo efficace, sicuro e veloce. I nostri esperti risanano ambienti e superfici con un procedimento di atomizzazione elettrostatica, usando prodotti sanificanti conformi alla normativa vigente. Lavoriamo con strumentazioni di ultima generazione, arrivando in ogni piccolo angolo, garantendo un lavoro certificato e sicuro al 100%. La sanificazione può essere effettuata senza spostare nulla. Vivi in sicurezza. Impresa di pulizie Total Service. Via del Portone 14, Raiano. Telefono 347 30 19 486. Per chi bada all'essere e non all'apparire, scambini abbigliamento. Da oltre 50 anni, il fashion store per chi veste con stile e personalità. Abbigliamento uomo-donna, dalle taglie slim alla oversize. Il casual classico per vestire l'adulto, le ultime tendenze moda dedicate ai più giovani e la cerimonia per i momenti importanti. Scambini propone la stessa qualità delle grandi firme a prezzi molto più bassi, per un total look garantito. Inoltre, troverai anche un competente servizio di sartoria. Scambini abbigliamento. Largo Palizze 3 a Sulmona. Da oltre 50 anni, veste il tuo stile. Su ogni 60 euro di spesa, riceverai un buono sconto del valore di 15 euro da spendere quando vuoi. Il nostro corso gratuito è un buono sconto del valore di 15 euro. Il nostro corso gratuito è un buono sconto del valore di 15 euro. morbida, sensuale, femminile. Una donna curvy sa sempre come valorizzare le sue forme, soprattutto quando sceglie di vestire le collezioni moda di donna in. Abbigliamento e taglie comode, capi di tendenza, casual, dallo stile fresco e giovanile. Abiti classici ricercati ed eleganti, dalla 44 alla 58. Donna Inn e Joseph Ribkoff. Keira, Barbara Lebeck, Lisa Cott, Mad Fashion e tante altre firme esclusive. Donna Inn ti aspetta nella nuova location in corso video 186 a Sulmona, di fronte a Piazza 20 Settembre. Donna Inn, lo stile morbido della femminilità. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. Supermercati pick-up. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino convenienza tutti i giorni, perché da noi non avrai più bisogno del volantino. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta. Prodotti per la cura della casa e della persona, a prezzi convenienti tutti i giorni e tutto l'anno. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. Qualità, freschezza e convenienza ti aspettano ai supermercati pick-up di Sulmona, Prato, Leipopoli. Supermercati pick-up. Prezzi leggeri, senza pensieri. Potete fidarvi. Comodità innanzitutto. E poi stile sopra e sotto. Qui ci vuole Paola. Paola, abbigliamento e intimo uomo-donna. Dagli slip ai reggiseni, passando per le maglie, le calze e i pigiami. Ogni prodotto è garantito per qualità e prezzo conveniente. Le proposte per tutta la famiglia sono numerose. Da quelle più classiche a quelle fantasia. E tutte delle migliori firme. SANS Complex Paris, Alpine, Image, Boglietti, Philippe Matignon, Duplo e tante altre. Fidati dell'esperienza. Lasciati consigliare da chi è da oltre 30 anni nel settore. Paola, abbigliamento e intimo. Viale Costanza 1, Sulmona. Non si può farne senza. Professionista o dilettante? Per la tua voglia di sport c'è un nuovo store a Sulmona. Jump Sportswear & Shoes. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. Le nuove collezioni dei migliori brand. Adidas, Viadora, Fila, Ioma, Leggea. Forniture per scuole e associazioni sportive. Seguici sui social per scoprire tutte le novità e le promozioni in corso. Per lo sport e il tempo libero. Jump Sportswear & Shoes. Facci un salto. Via Giovanni Panza 13, Sulmona. Se devi sostituire la tua vecchia caldaia e vuoi risparmiare davvero, questo è il momento giusto. Vieni da Edilclima e chiedi subito come avere lo sconto immediato del 65%. Approfitta dell'eco bonus per sostituire la tua vecchia caldaia con una di nuova generazione, pagando solo il 35%. Inoltre da Edilclima trovi i materiali edili, termoidraulica, ceramiche, condizionamento, arredobagno. Con Edilclima, al dettaglio o all'ingrosso, la tua casa è in buone mani. A Sulmona, Via Lamaccio 10 e Showroom, in via Stazione, intro d'acqua 54. Affrettati, questi sono gli ultimi giorni. Luigi Liberatore, abbigliamento e calzature uomo-donna svuota tutto ed effettua una svendita totale per chiusura attività con sconti reali del 70% su tutte le collezioni autunno-inverno. Meyer, Ferrante, Camouflage, Cautieri, Malboro Classic, Gaia e tanti altri prestigiosi brand scontati del 70% per chiusura attività. Non perdere le migliori occasioni, questi sono gli ultimi giorni. Approfitta di questa impertibile occasione. Luigi Liberatore, abbigliamento e calzature uomo-donna, anche taglie conformate. Centro Acquisti Pratelle, di fianco a Carrefour, a Pratola Pelligna, domenica aperto. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Latte Granarolo parzialmente scremato da un litro, 69 centesimi. Olio extravergine De Santis, un litro, 2,98 euro. Acqua Ferrarelle, un litro e mezzo, 29 centesimi. Mortadella italiana Felsineo, 89 centesimi letto. Lombatine di Suino, 4,99 euro al chilo. Passata di Pomodoro De Cecco, 700 grammi, 68 centesimi. Caffè in Buon Gusto di Napoli, 250 grammi, 1,99 euro. Punto vendita di Raiano, orario continuato. E domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Pelligna, via Valle Madonna 51. Seconda parte, seconda parte di Onda Ligiri, partiamo dagli impianti sciistici. Basta demonizzare la montagna, gli imprenditori presentano il conto, perso il 60% rispetto allo scorso anno. Facciamo il punto nel nostro servizio. Vedendo le città di Roma, Napoli e Milano, nel periodo del cashback che dicono loro, che hanno mandato la gente a fare le coppere, sembrava di essere a Rio de Janeiro il periodo del carnevale. E io poi, noi come impiantisti, dobbiamo essere chiusi. Questo fatto a noi ci indegna. Beh sì, è evidente, è evidente che sia possibile. Il grido di dolore arriva da Roberto De Castello, imprenditore del comparto scistico, che abbiamo intervistato la vigilia del famigerato 18 gennaio, ovvero la data che in molti hanno segnato sul calendario, anche se la stagione invernale resta in biligo, perché non si sa se si riuscirà ad aprire gli impianti. Un ulteriore rinvio a fine febbraio determinerà l'automatica chiusura della stagione. Del Castello presenta il conto nella nostra intervista, parlando di una perdita del 60% rispetto allo scorso anno di questi tempi. Come pure per rinnovare e adeguare gli impianti, sono stati spesi circa 600 mila euro, a fronte dei 160 mila che solitamente entrano nelle casse. È uno stilicidio, tuona l'imprenditore. Noi cerchiamo comunque di farci trovare i pronti in caso di apertura, ma questa demonizzazione della montagna deve finire. In questi giorni gli impianti sono occupati dagli atleti professionisti che non portano in dotto d'economia nel cosiddetto circuito bianco, ovvero la filiera dello sci tra impianti e alberghi. Assolutamente niente, perché gran parte sono gli avruzzesi, vanno e vengono. Tutti i campani hanno più o meno le case, o le fitano o le hanno di proprietà la seconda casa, e quindi praticamente i supermercati e basta. I ristoranti chiusi, i bar chiusi, quindi da noi hanno comprato il biglietto all'inizio perché non facciamo il giornaliero in quanto sarebbe spiacevole per loro e gli diamo l'opportunità di fare uno stagionale per poi poterlo riutilizzare anche in seguito e che adesso lo hanno già ripagato, perché dopo 12 giorni già praticamente lo si è ripagato, dal 4 si figuri un po' loro stanno sciando, però anche per non penalizzare quello che sono gli atleti, i ragazzini, perché sennò avremmo dovuto avere tutto chiuso. L'intervista integrale è disponibile sulla nostra piattaforma di YouTube. All'esame del Senato lo sblocco di 58 opere, 58 cantieri, tra cui anche il collegamento ferroviario Roma-Pescara, il nostro servizio. C'è anche la Roma-Pescara tra i cantieri da sbloccare al vaglio del Senato. Al via oggi in Commissione Trasporti e Lavori Pubblici l'esame dell'atto del Governo, che contiene 58 opere infrastrutturali, di cui 14 stradali, 16 ferroviarie, una per il trasporto rapido di massa, ovvero la linea C della metropolitana di Roma, 12 idriche e 3 portuali, 12 per presidi di pubblica sicurezza. Si tratta quindi di un passo in avanti, spiega la senatrice grillina, Gabriella Di Girolamo, del percorso iniziato con il decreto sblocca cantieri, proseguito con il decreto semplificazioni per consegnare ai cittadini opere ferme da anni per il rilancio economico del Paese. Per quanto riguarda l'Abruzzo, scrive Di Girolamo, tra le 58 opere in esame è presente il potenziamento del collegamento ferroviario Pescara-Roma e il completamento dei lavori per 602 milioni di euro che interesseranno i raddoppi ferroviari tra Pescara, San Giovanni Teatino, Chieti, l'interporto d'Abruzzo. Tutte le opere che esamineremo sono ferme da tempo per elevata complessità progettuale, esecutiva, tecnico-amministrativa e come da decreto saranno affidate ad uno o più commissari straordinari. L'avvio dei cantieri avrà una ricaduta notevole sul piano economico, andando a sbloccare circa 25 miliardi fermi da tempo e sul piano sociale, andando a rafforzare il sistema infrastrutturale del Paese con opere di notevole importanza che attendono da anni l'avvio o il completamento. La Roma-Bescara fu presentata alla fine dello scorso anno dal presidente Marsiglio e dall'allora numero uno della rete ferroviaria italiana, il sulmonese Maurizio Gentile. Credo che finalmente siamo al punto di svolta definitivo per poter realizzare quello che è stato un sogno per troppo tempo. Abbiamo dato come obiettivo quello di arrivare da Roma a Pescara in meno di due ore. Gli ultimi progetti che risalivano al 2008 davano come obiettivo due ore e 33 minuti. Noi abbiamo modificato radicalmente questo progetto per ottenere tempi compatibili compatibili con la modernità e con la velocità delle nostre esigenze. Con l'impegno del Ministero questo discorso vale per il trasporto passeggeri ma viene esteso anche al trasporto merci per rendere questa linea una linea compatibile e concorrenziale anche per il trasporto merci e per permettere lo sviluppo economico e industriale del territorio e dei nostri porti. I lotti, diciamo, che ho descritto sono tre e in realtà ognuno di questi lotti è suddivisibile in dei sublotti funzionali cioè che una volta realizzati si utilizzano subito il che consentirà di avere gli effetti migliorativi in modo progressivo nell'arco del tempo. Torniamo a Solmona un assembramento di rifiuti alla villa comunale l'inciviltà praticamente non va mai in lockdown è proprio il caso di dirlo vediamo tutto nel nostro servizio. Bicchieri di plastica tovaglioli bottiglie di birra campari e cartacce varie quanto basta per organizzare un aperitivo all'aperto nel cuore del centro storico ispreggio alle misure anti-covid e a quelle del buon vivere comune l'intero paese è andato in semi-lockdown nel corso delle festività natalizie con l'avvicendamento tra zona rossa e arancione spostamenti limitati a sporto per le attività di ristorazione l'imprenditore e gli operatori economici hanno dovuto sopportare notevoli sacrifici come pure l'esercito dei volontari che non si è fermato quella che sembra non prendersi una pausa è l'inciviltà che continua a regnare sovrana come se il covid non esistesse l'ultimo assembramento di rifiuti si registra nella villa comunale in particolare nell'area verde della basilica cattedrale da tempo scambiata per una latrina a cielo aperto lì i vandali hanno messo le radici è facile che la zona gialla abbia agevolato rimpatriate d'altronde si percepisce una certa stanchezza emotiva nel mettere in atto le rigide misure imposte dal governo centrale ma in questa fase serve uno sforzo collettivo quel cumulo di rifiuti non è un'immagine rassicurante né per contenere la diffusione del virus né tanto meno per il decoro e il rispetto dell'ambiente il lunedì prossimo 18 gennaio sarà proclamata la capitale italiana della cultura 2022 che vede in finale 10 città italiane tra cui l'Aquila un momento d'attesa quello che stiamo vivendo che coinvolge tutti un ruolo importante potrà svolgerlo proprio la fondazione Carispac qualente baricentrico per l'intera provincia aquilana afferma il presidente sul monese Mimmo Taglieri la fondazione Carispac ha garantito fin dall'inizio il suo apporto al lavoro che il comitato e l'amministrazione comunale con grande dedizione e professionalità hanno compiuto per arrivare alla candidatura della città tra le 10 finaliste per il 2022 il nostro impegno continua Taglieri proseguirà a sostegno dell'iniziativa come partner fattivi nella realizzazione del programma di eventi che continua per l'intero anno che si articola di proposte volte a mostrare l'Aquila una città forte nella sua identità e al contempo aperta al mondo centro nodale punto d'incontro di un territorio vivo e vitale conclude il presidente della cassa di risparmio ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia gli studenti fanno lezione da casa dipendenti pubblici hanno lavorato da remoto d'altronde si sa che in tempo di pandemia si fa il possibile per agevolare il lavoro agile e ridurre spostamenti e movimenti ma sul Mona anche gli anziani vanno in smart working come è possibile ce lo spiega la dottoressa Verdiana Fornaro os ludica che ha progettato una serie di laboratori per gli anziani che restano in casa per via dell'emergenza sanitaria si tratta di attività da realizzare semi congiunti per combattere la solitudine dietro l'angolo e mantenersi attivi la nascita dei laboratori DAD mi ha portato a entrare nelle case con grande pasto svelto rispetto a quanto già facevo nella normalità per cui ho proposto questa modalità di sussidio che tramite l'ausilio dei familiari prevede una sorta di schedario per avere propri compiti da svolgere e rapportare con foto e video spiega Fornaro sono laboratori di stimolazione della mente attivazione manuale attivazione della memoria tutti i fattori che chiaramente si trovano un po' menomati in quelle che sono le persone anziane e devo dire che c'è stata una grande adesione da parte di quasi tutti i miei utenti e di questo comunque li ringrazio con la speranza che chiaramente in quest'epoca un po' incerta ecco diventi uno dei punti cardine non soltanto dell'attività diciamo mia personale ma anche un po' di tutte le attività in generale tra l'altro ecco si parla sempre di chiusure di negozi comunque che chiudono di attività che comunque ci lasciano ecco io invece voglio accendere un barlume ecco di speranza in quelle attività che magari hanno momentaneamente deciso di chiudere perché chiaramente la crisi si è fatta sentire hanno preso questa decisione e magari ecco accendere un lume di speranza anche per loro per un futuro che comunque possa essere migliore tra le riluttanze della signora Maria la foga della signora Viola l'impaccio del signor Antonio le domande del signor Andrea tutto si affaccia nel curioso mondo del digitale una finestra nuova perché no una nuova opportunità di progettazione sociale e di integrazione prima di chiudere mi invito sempre a visitare il nostro sito internet www.ondadv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie ma come ogni morte di guai a salutarci senza la frisma del giorno un pizzico di saggezza popolare dietro alle nostre notizie e davvero tutto per questa edizione grazie per aver scelto Onda Riggi che come di consueto torna domani a tutti una buona serata Buonasera Andrea buonasera telespettatori di Onda Tg eccoci con il nostro consueto appuntamento settimanale con la frisma la notizia un po' curiosa di oggi che mi ha presto a commentare riguarda la condanna inflitta dal tribunale di Sulmona a quella signora che nel 2018 rubò tre candelabri dall'altare della cattedrale di Sulmona dalla chiesa di San Bambino in pieno giorno approfittando dell'assenza del parroco di Don Domenico Milani approfittando dell'assenza di altri fedeli la signora entrò in chiesa e si portò via i tre candelabri che stanno sull'altare non si è resa conto la signora che non c'era l'occhio umano a guardarla ma c'erano le videocamere che hanno ripreso tutta la scena e quindi è stata identificata nel giro di qualche ora è stata riconosciuta dalle forze dell'ordine e nel pomeriggio stesso a seguito di una visita domiciliare da parte dei terrabinieri la signora ha restituito i tre candelabri quindi la cosa si è conclusa diciamo subito la mia osservazione in proposito mi fa un pochettino riflettere perché vorrei dire a questa signora che a parte il furto è sempre un atto bruttissimo non va fatto in nessun caso qualunque reato non va fatto qualunque reato non va commesso per nessun motivo al mondo bisogna stare tranquilli e sereni e quindi non commettere mai un reato però i reati che si commettono nei luoghi sacri nei cimiteri che si commettono in questi contesti un po' diversi dal solito secondo me hanno un aggravante anche morale oltre che le fattispecie previste da quello che è il codice penale perché oltre all'editto del codice penale che dice si chiunque si impossesse dalla cosa mobili altrui sottraete che dice sono le frasi giuridiche ci sta il fatto ben anche non bene il fatto anch'esso grave che il tutto avviene in un luogo di culto dove le persone ci si regano per pregare ci si regano per una questione di di coscienza per una questione intima personale la chiesa a differenza della scuola dove ci si va obbligatoriamente tranne in tempo di covid ma lo scolaro lo studente va a scuola perché è obbligato ad andarci che gli piaccia o no che è un posto di lavoro si deve presentare sul luogo di lavoro perché è obbligato ad andarci chi va a fare la spesa ci va perché ha la necessità di andarci ma nei luoghi di culto nelle chiese nei cimiteri nessuno è obbligato ad andarci le chiese sono aperte al pubblico proprio per dare la possibilità a chiunque di entrare e manifestare la propria fede nel proprio modo manifestare la propria fede il proprio credo il proprio credo nella divinità quello che è quindi qualunque essa sia la religione parlo da cattolico ma questo riguarda qualunque religione ammessa nello stato italiano e allora andare a violare questo spazio aperto alla pubblica fede è brutto anche moralmente proprio un atto che poi che cosa ruba tre candelabri che hanno un valore commerciale bassissimo signore che te ne da fate tre candelabri cosa te ne devi fare tre candelabri capisco un furto di una cosa di un bene necessario per carità non c'è lavoro c'è fame ruba qualche cosa di necessario per mangiare per sopravvio ruba qualche cosa per vestirsi perché c'è freddo ma l'ugante labbra che c'è da fare con l'ugante labbra signore poi la pena che è stata data a sta signore è una pena che è abbastanza sembrare sei mesi di reclusione e 200 euro di multa più i soldi che deve dare l'avvocato non sono pochi non sono pochi ma codice penale alla mano è una pena sì tosta perché che cacchio tre candelabri una pena così tosta ma guardate signore se uno va a vedere è comunque il minimo che il giudice le potesse infliggere perché la pena per questo tipo di reato purtroppo benché sono tre candelabri e non sono tre tre lingotti d'oro perché se erano tre lingotti d'oro è la stessa cosa era la stessa pena purtroppo la pena parte da sei mesi a tre anni e quindi le sono date il minimo forse anche grande e forse anche grazie alla scaltrezza dell'avvocato Alessandro Scelli l'aforismo di questo caso qual è che si dice a Sulmona a che fa che non si può gli succede che non vuole tradotto a chi fa ciò che non si deve gli succede ciò che non vuole e calza proprio a pennello per queste circostanze la signora ha commesso un atto che non andava fatto e mai pensava di incorrere eventualmente in una pena così alta diciamo mi accantelato un anno fa che tu anno fa sei mesi di reclusione ma ce la contano su spese sei mesi di reclusione e non sono pochi più la contravvenzione la multa insomma è tosta come poi il fatto di pensare di essere solo in chiesa e signora cara se dici per esempio sul mona quante pinze che non ti sta facendo nessuna era un momento che ti stanno facendo tutto quanto là non c'era gente fisica ma ci stavano le videocamere c'era l'occhio bionico e ti ha ripreso e quelle immagini poi le hanno viste i carabinieri le scacerdote tutte quanto andarsi a mettere in piazza per un furto di tre candelabri non so fino a che punto ne vale la pena però è successo è successo e speriamo che la cosa serva di lezione affinché questa signora avrà avuto in quel momento sicuramente un annebbiamento che non ha capito più niente un momento di stupido io dico sempre passano a tutti quanti e speriamo che questo serva di lezione affinché la signora non commetta più furti per nessun motivo perché i furti non vanno comunque commessi e poi speriamo che serva di lezione anche ad altre persone non solamente a lei perché lei oramai dalla sua brutta figura l'ha fatta i suoi pensieri oramai li ha avuti ma che serva di monito anche a tutti quanti noi altri e chiunque di non farci venire mai la tentazione di commettere un atto che sappiamo già a priori che è un atto che si può fare che è un reato che è un delitto che è una cosa immoralmente non buona che è una cosa che non si può fare questo ci deve portare da questi piccoli gesti deve nascere l'insegnamento poi per la comunità per gli altri l'insegnamento che dobbiamo apprendere è proprio questo che non vale la pena andarsi a macchiare la fedina penale la condotta andarsi a macchiare l'immagine andarsi a macchiare la reputazione per che cosa? per tre candelabri ma anche se fossero state tre ripeto tre lingotti d'oro perché l'onestà la propria personalità c'è un valore che va oltre quello che può valere un oggetto che uno ruba la dignità la dignità quanto va la dignità e non c'è questo prezzo quanto va la dignità non è prezzo e perché andarla a scalfire per un furto ripeto ho stato una cosa di estreme necessità dice mannaggia mi serviva un vestito perché stavo morendo di freddo mi serviva una giacca perché mi stava mangiando i pepe fritti mi serviva non mi sono rubato qualcosa da mangiare perché stavo morendo di fame può essere anche comprensibile madre candelabra che c'ha da fare chi candelabra signor tende una chiesa madre la chiesa va rubato va rubato ma secondo te le cose di valore te le fanno trovata nella chiesa come c'è in custodite eh signor boh insomma la chiesa c'ha tutto un valore tutto un patrimonio ma non ti puoi portare via le cose così tanto per comunque dai fatemmo speriamo che questo gesto sia ripeto isolato per questa signora e sia di monito per tutti quanti gli altri approfitto di questa di questo aforisma prima della chiusura che siccome oggi è il 12 di gennaio è compie gli anni Pasquina schiappa che è la titolare di Onda TV quindi oggi è un compleanno che riguarda Onda TV e io faccio gli auguri a nome di tutti gli appartenenti ad Onda TV io mi sento comunque un appartenente ad Onda TV facciamo tutti quanti gli auguri a Pasquina per il suo trentesimo compleanno sarà un trentuno non so come so che fa un po' di anni auguri Pasquina e buonasera a tutti quanti a tutti quanti Grazie a tutti.